... Attenzione un allenatore della dimensione 8 Ponte Pera al tavolo della segreteria, grazie Esso è una partenza per la batteria 3 Così a 1.1 di Vittoria, San Vincenzo, a 2 con altri in prezzi A 0-1, 3 e anche Svema, Viola 4, Barbacci-Micon, breve moto 5, Ciaccia-Vittoria, Vigilio del Modo Ponte Pera E la 6, Ponte Ponte, Sara, Univuto e Univuto e Univuto e Cielo